Cagliari una marea umana è iniziata dal parco musicale di Cagliari e canta e danza sulle note del rumore di Raffaella Carrà. Una partecipazione straordinaria alla sfilata per i diritti delle persone LGBT dopo la lunga sospensione dovuta alla pandemia. La processione si muove ordinatamente lungo la via Dante e il Gratit non fermano la danza. La folla dopo aver camminato su via Dante deve tornare al parco musicale dove sono stati creati. Punti di ristoro